Ciao ragazzi, quest'oggi andiamo a fare un unboxing del Samsung Galaxy Note 20 Ultra che sinceramente è già dal 21 che ce l'ho, però ho voluto anche un secondo provarlo, insomma, utilizzarlo prima così magari posso fare qualche piccola considerazione, oltre che alla semplice unboxing Note 20 Ultra, si presenta in questa maniera qua, si presenta, qua abbiamo i soliti codici e-mail e quant'altro la sua solita targhetta, mi raccomando, se la trovate già tagliata o aperta, qualche problema c'è completamente nero dappertutto, qui abbiamo delle scritte similucide qui delle istruzioni che nessuno leggerà mai e che tantomeno io ho mai letto sinceramente il pennino, il controluce e questa qui la scatolina apriamo e all'interno troviamo naturalmente il telefono, ovviamente qua abbiamo la spillettina qua la tiriamo fuori, nessuno mai tira fuori ok, e l'ho spaccata, ci picchia di erbolina, vabbè qua abbiamo dei manuali, di solito qua non c'è più niente dentro, giusto? no, nulla questi manuali qua dicono, non lo so, vabbè attenzioni per, diciamo, per la garanzia un piccolo istruzioncino guida di riferimento rapido, che sfido io a chi mai l'abbia usata però, vabbè però questa qui invece è comoda, comoda, comoda una spillettina poi abbiamo il telefono che in quel momento, come vi dicevo appunto, io già sto usando la pellicolina, che è la classica pellicolina della vita, perché c'è sempre quella lì poi, allora, il telefono si presenta così io credo che sia molto, molto, molto bello ma questo è un mio pensiero, naturalmente la bellezza è soggettiva, per cui per fortuna, se tutti quanti vorremmo una stadonna e sarebbe un grosso problema finalmente, nonostante mi ero già abituato qua sull'S10 Plus che è quello che usavo prima appunto hanno tolto via il bilanciere e il tasso accensione di qua anche se sinceramente mi ero già abituato però devo dire che anche quando guardo i video solitamente li guardo sempre così i video poter aumentare e abbassare il volume così è molto più naturale rispetto a farlo da qua sotto qua poi, fotocamera frontale naturalmente è ancora più piccolina rispetto a prima cioè almeno il buco sembra più piccolo poi ho quello è un altro discorso sopra qua abbiamo la doppia SIM oppure la singola SIM con l'espansione di memoria quindi è un ibrido e il microfonino poi cos'altro? c'è la bilanciere del volume accensione, tasso, spegnimento l'altro microfonino la Type-C che una cosa che ho notato che quello che ho visto io ho letto il ho guardato anche dappertutto ma mi sembra che hanno portato la ricarica da 45 a 25 massimo mentre invece nel 10 Plus c'era invece la ricarica a 45 poi vabbè hanno spostato il pennino l'hanno messo naturalmente da destra che era super comodo a sinistra però ripeto ci si abitua tutto quindi non è che nulla di che il sistema è sempre esattamente lo stesso quindi questo qua questo qua semplicemente quindi pulsantino sblocchi e quant'altro dicono che hanno abbassato la Type-C insomma meno lag e quant'altro ma sinceramente non ho potuto apprezzare insomma sono un disegnatore lo uso giusto per lavoro ogni tanto è buona però mi piace che ci sia abbiamo nuove camere abbiamo sensore laser abbiamo tolto via il TOF effettivamente quell'altra l'avevo presa anche perché mi piace invece il sensore 3D perché io stampo anche in 3D il problema di base è che non l'ho mai 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 usato per cui sì effettivamente che non c'è sti cazzi led il ciao e flash poi questa qui la periscopica che devo dire che va veramente bene anche se è un 5x è tanto effettivamente uso sempre quella 100 megapixel e basta e poi c'è la grandangolare classica e amen è bello il sensore perché è bello grosso tanti hanno detto che hanno trovato dei problemi magari con sporcizia all'interno e quant'altro io sinceramente l'ho trovato perfettissimo il telefono ecco una cosa che devo dire che scalda veramente 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 a bomba ragazzi vi assicuro è vero che è stata quindi su quello lì non stiamo neanche discutendo però scalda veramente veramente tanto e basta ricezione però sinceramente mi sembra vado un pochettino meglio rispetto a notti 10 plus che usavo prima e altre cose la batteria non dura veramente una mazza ricarico tipo due volte al giorno ma tanto è uguale io sinceramente diciamo che i telefoni in particolare li uso come dire li uso un anno dopodiché prendo e mi ricavo via quindi appena esce con il modello nuovo me lo prendo e basta e altre cose no comunque stavo facendo l'unboxing non la recensione vabbè tralasciamo erano solo piccole considerazioni insomma lo schermo è una figata ragazzi lo schermo è fantastico ho notato il netto miglioramento rispetto all'altro e il 120Hz dà paura dà paura 120Hz bello 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 consuma tanta batteria ed è per quello carico due volte ma sti cazzi lo faccio con tutto il cuore perché è veramente veramente una figata poi carica batteria usb tipo c che va bene non mi cambia niente sinceramente è così è così e basta non mi sono mai fatto problemi qua c'è un bagaglino che non serve a niente solo per un appoggino qua invece per farvi capire quante volte ho usato il suo carica batteria mai ok perché sto ancora usando quello del 10 plus anzi adesso tiro fuori così userò questo quindi qua abbiamo il cavo sb tipo c tipo c qua ci sono i gommini ah beh gli auricolari invece li ho tirati fuori perché gli auricolari appoggio il cellulare sopra la scrivania e parlo così abito di tenerlo appiccicato all'orecchia che oltretutto questo qua dimenticavo è una figata perché è uno di quelli che ha il SAR più basso io da una vita che continuo a scegliere il Samsung anche perché è il SAR basso io passo un sacco di ore al telefono di conseguenza vuol dire che prende e non ti cuoce mica il cervello o meglio te lo cuoce meno perché te lo cuociano anche gli altri però ci vai su un Huawei che c'ha uno c'ha sopra l'uno l'uno e mezzo e quant'altro l'uno e settanta è anche arrivato se non erro mentre invece questo qua siamo sotto lo 040 046 se non erro non voglio sbagliarmi con il Note 10 plus non lo so no però comunque si è sotto lo 040 e quindi una vera figata i gommini di riserva e basta direi che è tutto quello che dovevo dirvi naturalmente io l'ho scelto nero per il semplice fatto che c'erano i 50 perché sono un poveretto chiaramente e quindi c'erano i 50 euro di sconto a prenderlo a 1 euro e quindi l'ho preso lì con 50 euro in meno altrimenti a sto giro sinceramente l'avrei preso bianco anche perché anche il Note 10 plus era bianco era nero quindi ci voglio cambiare poi invece ho preso qualche custodia ho preso due custodi adesso ve le faccio vedere anzi ho preso due custodi ho preso che le ho preso a parte non ho preso nulla di cioè insomma non ho preso roba originale Samsung e quant'altro perché anche perché sinceramente a spendere 40 euro per una custodina a me un pochettino fiacca ma quello sono io che sono magari un pochettino strano ragazzi poi magari voi dici prendi un telefono a 1300 euro e non ci spendi 50 euro di custodia sì non so perché nella mia testa mi scoccia ne ho preso due ne ho presa una è rossa ok quindi niente di che dentro però semplicemente qua c'è già la calamita perché io ho un magnete nella macchina ed è utilissimo appiccicarlo e poi c'è uno stand naturalmente che lo puoi mettere un pochettino come ti pare lo giri e quant'altro cambia anche le varie inclinazioni e questo è carino l'unica cosa scomoda è questa cosa qua che non mi piace mica la sensazione a tenerlo in mano sinceramente questa cosa qua l'unica cosa altrimenti ho preso questo qua invece che è della Spigen Spigen come volete chiamarlo che è un patacone perché è tutto quanto grosso uguale ok ve lo faccio un attimino vedere attaccato e questo è quello che uso principalmente ok come vedete appunto diventa tutto quanto grosso uguale e mi rendo conto che sia una cosa veramente gigante anche se però devo dire che protegge da dio ma da dio la tele e la fotocamera che è quella a cui ho più paura in assoluto però mi piacerebbe anche una completamente pari qua e che poi vada su qua però pari da entrambi i lati in modo che quando la appoggio sopra qua se anche faccio così non mi si blocca niente mentre se invece lo fai con uno che ha solo come il 99% dei case che ti mettono solo il bagaglio qua e basta per proteggere qua allora qua quando dovete toccare da questo lato qua magari che si ribalta ma se invece fosse esattamente pari sopra qua sarebbe perfetto piccola considerazione insomma invece questa qui la cosa carina è che c'è appunto qua che ci puoi mettere dentro delle carte di credito dei biglietti di visita e quant'altro insomma io ci ho messo qua questa qui che sarebbe la calamita perché appunto quando poi l'attacco alla macchina ce l'ho più comodo e mi fa la stessa cosa che mi fa quest'altro qua ma è la calamita la cosa fondamentale e che altro dirvi questo qui appunto c'ha questi qua in gomma messi qua e stessa cosa anche questo come potete vedere che proteggono a modo a modo lo schermo e dirvi altro non saprei il telefono va bene consuma come un assassino e baffo diciamo che come anche il Note 10 Plus all'inizio era un fottuto lavandino e non c'è niente da dire però col tempo devo dire che non mi arriva a fine giornata adesso il Note 10 Plus però diciamo che l'anno comunque sia migliorato parecchio per cui magari arrivo alle 10 di sera e devo caricarlo perché sono veramente crepato però ripeto io faccio 4 ore e mezzo 5 ore ogni giorno almeno di schermo e almeno due rette di chiamate maps poco perché se la mappa non attacco comunque sia maps 99 su 100 lo attacco anche in carica per cui quello non fa mica testa e faccio anche dei chiamate faccio anche dei video delle foto e quella roba lì basta ragazzi per oggi è tutto buona domenica ciao ciao grazie a tutti